Sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate dall'ultima edizione di Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella. O forse dovremmo dire ex coppia. A seguito della partecipazione al reality di Canale 5 infatti, i due hanno deciso di rompere, in particolare per via della vicinanza di lui alla tentatrice Maika Randazzo. Tra questi ultimi due l'amore durerà oppure no? Al momento sembra di sì, almeno a giudicare dall'ultima foto pubblicata da Lino su Instagram. Tutto parte dalla serata di ieri, quando alcuni concorrenti dell'ultima edizione di Temptation si sono ritrovati in un ristorante, ovvero la pescheria di famiglia di Maika a Roma. Dopo brindisi, buon cibo e risate, Maika e Lino sono tornati a casa insieme. Lo dimostra proprio la foto pubblicata da Lino sul suo profilo Instagram, uno scatto particolarmente intimo in cui i due sono a letto abbracciati. Nell'immagine, lui le dà un bacio sulla fronte e lei al suo fianco dorme. Stando al post sono le 6.34 del mattino, dunque i due hanno trascorso la notte insieme. Ma come ha reagito Alessia, ovvero l'ex fidanzata di Lino, di fronte a una relazione così sbandierata? Sollecitata su Instagram dai follower, la ragazza si è mostrata spazientita. Vi chiedo la gentilezza di non mandarmi più niente che riguardi Lino ha scritto. Non mi interessa con chi sta e dove sta. È una persona che non mi appartiene più ed è libero di fare ciò che vuole. Basta solo che non nomina il mio nome. Siamo molto diversi. Io non sto insieme a persone di cui sparlo, mentre lui sì. Come andrà a finire questo triangolo? Temptation Island ci ha abituato per anni a veri e propri colpi di scena. Ci sono stati coppie, ad esempio, che sono tornate insieme in un secondo momento, dopo aver abbandonato il programma di Vise. Sarà anche questo il caso? Staremo a vedere.